ma Giorgio è instancabile ma Giorgio è bravissimo però poi dopo la voglio vedere se un domani è letto a fare perché a criticare si però a fare è diverso è già pizzicato no ma quello che tiene il bello Giorgio per esempio sta pure per due ore ma per esempio si chiede se un signore se fosse andrà a tutto e due ore se fosse riuscito a mandare sentite a Mariano Venuto visto quando sono complicati non lo sa fare ma io mi ne vado già già andati ci sentiamo ma che tanto a me mi arrivano gli avvisi del mitaglio si 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 domani la mattina stiamo un po' a pezza nazionale invece di rimanere fisso cerco se posso un po' sempre come si chiama girare un po' per la piazza per intercettare un po' che noi di solito ci mettiamo ci mettevamo di fronte all'MD sempre sul marciapiede di piazza nazionale però rimanendo là con il gazebo invece stando con la catozzina insomma la piazza che è un po' più ampia cerchiamo un pochettino di di muoce ciao Gennarino ciao Giorgia ciao Gennarino ciao Gennarino andone dieri siamo sempre in registrazione così approfitto che faccio anche io diciamo eh certo ieri Gennarino che mi chiede scusa perché io sono andato e lui non è andato ma è troppo bello ma sono andato e lui mi chiede e lui mi chiede a voi ma come devono andare penso sicuramente bene movimento 5 stelle signora il cambiamento ma siamo solo noi andone siamo sempre noi prego votate a Napoli eh vabbè che ce ne fotte scusa ma noi ci prego votate a Napoli no però vediamo magari avete degli amici che votano su Napoli troppo belli no 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 Ammai grazie questo è un ottimo punto diciamo quando si lo media o le cose perché ascegliendo solo un po' di 100 si questo è uno dei migliori punti che abbiamo trovato fino adesso le devo dire la verità grazie abbiamo le manie di persecuzione qua il nostro infapoint mobile e così intercetti più nessuno San Valentino a terra